Continueranno magari ancora l'offerta se volete con i tuoi tonti Alfredo Allora, in queste due ore abbiamo raccolto 4.000 euro La raccolta andrà avanti anche domani e lunedì dopodiché la festa finita io mi informerò tramite Marianna che è la nostra coetanea che purtroppo ha vissuto in prima persona il dramma del terremoto un applauso a Marianna per favore l'inferno tramite Marianna che aveva una casa ad Amatrice come poter donare attraverso un bonifico i soldi al sindaco di Amatrice il tutto poi verrà ampiamente documentato con delle affissioni pubbliche con delle pubblicazioni sui vari siti grazie vedete allora quando si dice davvero non è un luogo comune la generosità di noi italiani lasciatemolo dire è unica al mondo e non è questa una cosa che ci siamo inventati non è un luogo comune noi siamo i più generosi al mondo grazie amici grazie per questi 4.000 euro io voglio dedicarvi questo gran finale a voi e a questi meravigliosi ragazzi che hanno organizzato una festa straordinaria non con poca difficoltà e allora come si dice su di te 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 su di voi su di noi nemmeno una nuvola grazie